Il PIM incontro è l'incontro più importante del procedimento di mediazione ed è il momento in cui si decide se effettivamente proseguire o meno la mediazione. Il punto fondamentale è che il legislatore è stato un po' timido e un po' vago nel disciplinare questo primo incontro e quindi noi operatori del diritto, sia avvocati che magistrati ma anche e soprattutto i mediatori, in questo momento stiamo facendo riferimento a degli orientamenti giurisprudenziali della giurisprudenza di merito che ci consentono di trasformare questo primo incontro da un passaggio, una perdita di tempo in un qualcosa di costruttivo che possa effettivamente consentire di arrivare ad una conclusione e ad una definizione stragiudiziale della controversia e quindi effettivamente si possa realizzare quell'effetto deflattivo che il legislatore si è proposto quando ha scritto la legge sulla mediazione ma probabilmente oggi ci siamo resi conto che avrebbe potuto scriverla un po' meglio. Se al primo incontro si rispettano una serie di adempimenti, una serie di cautele che diversi giudici di merito ci stanno fornendo e quindi per esempio quello di partecipare personalmente al primo incontro e quindi non delegare il proprio avvocato e soprattutto porsi in una prospettiva propositiva nei confronti di una risoluzione della controversia con l'aiuto di mediatori che siano dei professionisti e non degli improvvisati, sicuramente questo istituto è destinato a diventare molto molto efficace peraltro dimostrazione di questo è costituita dal fatto che gli organismi privati hanno una percentuale di definizione dei procedimenti di mediazione altissime, organismi privati dove ci sono i professionisti della mediazione al contrario di quello che avviene invece negli organismi pubblici dove la percentuale è irrisoria.